a lei che raggi un catalogo sulle adozioni ti ricordi quella casina bellissima che avevamo trovato in spagna con quel pero in giardino questi tipi di metri lì ecco allora ieri passavo davanti al comune e ho trovato questi cataloghi sulle adozioni che spiegano come fare e hai questo odore di caffè che si sta tostando non vorremmo che si bruci vero vado un attimo per il caffè torno subito che troia cos'è detto no nulla la rileggevo iliade